Stiamo vivendo questo momento di preghiera che si chiama appunto l'ora della madre e vogliamo fare compagnia a Maria in questo passaggio decisivo della sua vita e della sua esperienza di mamma e vogliamo farlo a partire da questo presupposto che anche noi in qualche modo non siamo dei semplici spettatori ma siamo chiamati a viverlo con cuore di madre. La maternità non è semplicemente un'esperienza legata al genere, la realizzazione di ogni donna ma è un'esperienza ancora più profonda. Ecco perché pensando a questo momento vogliamo abbracciare tutte le mamme tutti coloro che hanno generato dei figli, che sentono questo grande onore e questa enorme responsabilità ma in modo particolare vogliamo anche pensare a tutte quelle donne che vivono la loro maternità spirituale, in primis le consacrate coloro che hanno dato la vita al Signore, alla Chiesa, al mondo e vivono talvolta esperienza, anzi sempre, un'esperienza di maternità spirituale nella preghiera nel consiglio o ancora di più nella capacità di stare accanto a coloro che soffrono quante suore stanno accanto ai sofferenti in casa sollievo della sofferenza o ai bambini a delle situazioni anche di fragilità e di povertà quella è maternità spirituale ma ancora di più la Chiesa tutta è madre e sentire questa maternità significa avere cura sentire, dice Papa Francesco, questa commozione interiore sentire la passione, il dolore anche per questa umanità in modo particolare per le nuove generazioni ecco, a partire da questo presupposto vogliamo sentire questa ora, questo momento di Maria ma accanto a Maria anche il nostro momento e pensavo a questo contemplando l'icona della Madonna addolorata te l'aspettavi questa cosa Maria? era nelle tue previsioni quando guardavi al futuro di questo bambino che hai tenuto fra le tue braccia che hai cresciuto, che hai seguito, che hai ascoltato ti aspettavi questo epilogo, questa scena, questo passaggio quello di tenere fra le tue braccia questo tuo figlio ridotto in quella maniera a cadavere ecco, ci sono tanti passaggi nel Vangelo nei quali si percepisce questa presenza di Maria che quasi sgrana gli occhi quando accadono tante cose sin dal tempo del Natale i pastori, i magi, gli angeli è lei che ascoltava ma che sarà questo bambino? e poi quando si presenta al Tempio e le viene detto una spada ti trafiggerà il cuore ti trafiggerà l'anima quella spada chissà quante volte anche Maria ripensando alla sua vita di mamma ha ricordato nella sua mente quella spada quando quella spada l'avrebbe trafitta quando l'avrebbe assaporata tutta quando avrebbe provato quel dolore ecco quel giorno è arrivato ecco perché queste domande sono rivolte a lei ma in modo particolare sono rivolte e rivolta a tutte quelle mamme che per certi versi non si aspettavano di vivere la maternità come la stanno vivendo ecco voglio chiarire questo passaggio non voglio andare troppo alla larga vedete sin da quando un bambino è nel seno di una mamma è normale che ogni mamma cominci a sognare per questo bimbo per questa bimba che sarà che farà quanti talenti porterà con sé quali successi quali traguardi e poi man mano quando un figlio cresce comincia a comunicare anche le sue passioni i suoi talenti le sue qualità che diventerà ecco noi c'è questo bimbo che si chiama Emanuel che è un giovanotto non è più un bambino e anche noi frati quando lo vediamo lui viene puntualmente in questi giorni con il nonno e noi stravediamo per lui perché facciamo dei sogni perché gli abbiamo chiesto cosa farai da grande e lui voglio fare il frate noi siamo più contenti di lui e preghiamo per lui questo accade ed è giusto che sia così Emanuel è così preghiamo per te come preghiamo per tutti i bambini che crescono e che cominciano a manifestare quello che il Signore ha seminato nel loro cuore però fratelli e sorelle ecco saremmo davvero degli ingenui o vivremmo nel libro dei sogni se pensassimo che tutto va così che tutto si realizza nella naturalità se ogni bambino diventa chissà cosa non è sempre così e la mamma lo sa e la mamma ogni mamma vera è chiamata a cogliere il bello il sacro di ogni bimbo in qualunque maniera questo si esprime voglio fare una piccola parentesi a proposito delle mamme che dovrebbero essere le prime tifose dei propri figli le prime talent scout si dice così qualche volta per chi segue anche la tv qualche volta quando ci sono questi programmi nei quali si vedono dei giovanotti che sembrano uguali a tutti gli altri e che pian piano si cimentano anche nell'arte del canto della danza ecco di puntata in puntata questi giovanotti sembrano crescere artisticamente fino a quando raggiungono degli obiettivi sono entrati come anonimi come aspiranti artisti poi pian piano lo diventano e uno dei passaggi che di solito utilizzano anche nei talent e l'ha telefonata con la mamma col papà e la mamma e il papà dice ma io l'ho sempre saputo ma io sono il tuo primo tifoso prima che il mondo riconoscesse la tua capacità la tua le mamme lo sanno già e questa questa cosa mi fa venire in mente fratelli e sorelle è una una scritta che 25 anni fa 25 anni fa noi abbiamo vissuto la gioia immensa della beatificazione di padre Pio che per certi versi è stata ancora più grande potremmo dire della canonizzazione è stata la prima gioia infinita e c'era una scritta nella città di San Giovanni Rotondo che diceva così oggi per la chiesa sei beato sei santo per noi lo sei sempre stato come una mamma anche la città di San Giovanni Rotondo ha custodito padre Pio come una mamma e ha capito ha colto la bellezza di questo frate di questo suo figlio che ha accompagnato potremmo dire in tutti i suoi passaggi soprattutto quelli dolorosi prima ancora che quelli gloriosi vedete fratelli e sorelle è facile quando una squadra vince quando un giovane diventa fermato quando tutti dicono io lo conoscevo io l'ho capito io ma prima prima è molto più complicato è molto più difficile cogliere il prima vedete domani noi celebreremo la Pasqua del Signore lui che è glorioso vittorioso si manifesta al mondo e lo farà di generazione in generazione finché questo mondo esisterà ma Maria Maria ci è arrivata prima e ci è arrivata con il figlio morto tra le sue braccia nel momento di maggiore passione potremmo dire di desolazione di estremo fallimento di quello che un uomo su questa terra può sperimentare quella mamma è rimasta la sua tifosa gli è rimasta accanto gli è rimasta in piedi con la fede orgogliosa di quel figlio che ha ricevuto allora questa immagine fratelli e sorelle mi rimanda a questo pensiero che poi ecco era quello che volevo comunicarvi in modo particolare voglio pensare a tutte quelle mamme che stanno accanto ai loro figli ammalati non tutte le mamme sognano e talvolta alcune mamme quando i figli stanno crescendo fanno fatica a guardare il futuro talvolta si piange guardando al futuro qualche giorno fa ho letto questa notizia che mentre si faceva un congresso un incontro ad alti livelli sull'autismo era presente in questa sala un bambino autistico che dava fastidio ed è stato allontanato dalle nostre parti si dice il problema anzi in questo contesto voglio utilizzare la parola giusta la croce è di chi ce l'ha tanti possono dire possono comunicare ma la croce è di chi ce l'ha allora Maria questa mattina viene a dirci questa cosa che la croce non è un disonore non è una sconfitta non è un'umiliazione che la sconfitta è l'anticipo della gioia vera che la croce è la realizzazione più grande allora Maria che è tifosa infonde e deve infondere questa forza questa consapevolezza a tutte queste mamme che riescono a vedere a cogliere le novità i traguardi i successi di un bambino anche se è diverso da mille altri bambini e custodisce questa certezza nel cuore proprio quella che custodiva Maria che quel bambino che per il mondo intero è considerata una croce sarà ed è già la gioia più grande quel bambino lo stupirà quando una mamma vede un bambino ammalato è chiaro che si pone tanti interrogativi tanti misteri che sarà che sarà quella è la tua gioia la tua gioia più grande la tua benedizione più grande scoprirai saprai come ciascuno di noi è in attesa di quella Pasqua quando quel velo che copre questo mondo che ci rende ciechi sordi muti che ci rende così lontani dalla verità sarà eliminato allora davvero scopriremo tutta la bellezza di questo mondo tutte quelle mamme che per prima vestiranno i panni delle donne realizzate delle donne felici le mamme dei figli che con Cristo hanno salvato questo mondo ecco mi auguro con tutto il cuore che noi possiamo cogliere quando sarà questa verità dinanzi a noi e quindi Grazie.